Un sistema innovativo per la sicurezza sismica degli edifici è stato presentato da Tecnopolo Abruzzo presso la sala IRTI ad Avezzano, comune all'avanguardia per gli edifici sicuri. Il sistema SHM Board si basa su una tecnologia elaborata, creata dalla società West Aquila, spin-off dell'Università dell'Aquila con il Tecnopolo Abruzzo, ed è stato illustrato a tecnici ed esperti. Roberto Romanelli, direttore del Tecnopolo Abruzzo. Oggi presentiamo un sensore, si chiama sensore SHM Board, è un sensore che viene posizionato sulle infrastrutture. Il sindaco di Avezzano le ha voluto mettere in luoghi sensibili, quali appunto le scuole, dove sono bambini, dove ci sono ragazzi, dove ci sono magari lo stesso comune che magari rappresenta anche il centro di emergenza, qualora ci fossero, speriamo mai, delle calamità. E che cosa fa questa sensoristica? Questa sensoristica, H24, 365 giorni l'anno, monitora lo stato di salute di un immobile. Quindi verifica come sta e soprattutto quale è il movimento che lo stesso può aver avuto. Movimento che può riguardare le sue fondamenta, che può riguardare un sovraccarico, la vetustà dell'immobile o addirittura a seguito di eventi sismici. Non a caso siamo davanti ad un plastico che rappresenta proprio che cosa è successo qui a Avezzano, ma noi da Tecnopolo d'Abruzzo siamo figli comunque della stessa terra. È avvenuto lo stesso nel 2009 e dal 2009 l'Università dell'Aquila, per esso uno spin-off che poi presenterà questo progetto, ha fatto un grande studio, studio combinato con il mondo dell'industria e ha creato questa sensoristica che permetterà in tempo reale a dire come sta un determinato immobile. Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pancrazio, siamo qui davanti a un plastico molto significativo, che in qualche modo ci fa capire l'importanza del progetto che si sta presentando oggi. Beh, sì, questo plastico rappresenta Avezzano prima del terremoto che fu completamente distrutto. Ecco perché la nostra amministrazione si è basata fortemente sulla sicurezza. Siamo partiti con la sicurezza scolastica, abbiamo le scuole più sicure del centro Abruzzo, abbiamo poi lavorato sulle porte antisismiche e poi adesso stiamo presentando un progetto veramente rivoluzionario che sono dei sensori che abbiamo già messo in alcuni edifici pubblici e in alcune scuole per monitorare qualsiasi movimento possa essere rilevato dalle mura. Questo grazie anche a una società specializzata che fa capo alla Tecnopolo e che in qualche modo ci ha anche aiutato a poter prevenire e completare questo nostro sistema di sicurezza. Noi abbiamo forse fatto un'opera poco vantaggiosa da un punto di vista del consenso sui sottopassi perché qualche critica c'è stata ma l'abbiamo voluto fare per mettere in sicurezza i cittadini di Avezzano.